E' necessario intensificare i controlli e invitare i cittadini a collaborare, segnalando le situazioni anomale. L'intensificazione dei controlli sul territorio e maggiore collaborazione dei cittadini, chiamati a vigilare e a segnalare situazioni anomale, perché la sicurezza non è monopolio esclusivo delle forze di polizia, ma di tutta la società. E' questo quanto emerso dall'incontro che si è tenuto presso la sala giunta della residenza comunale di Umbertide, rappresentata dal sindaco Marco Locchi, dall'assessore con delega della sicurezza Maria Chiara Ferrazzano e dal segretario comunale Marco Angeloni, con il prefetto di Perugia Antonio Repucci, l'onorevole Giampiero Giulietti e le forze dell'ordine del territorio, nello specifico la polizia municipale, l'arma dei carabinieri, la polizia provinciale ed il corpo forestale dello Stato. Troppo spesso parliamo di diritti, io evidenzerei anche il dovere dei cittadini, un dovere di riferire, di segnalare comportamenti anomali. Ecco, stiamo nella stessa barca, dobbiamo serrare le file perché il territorio è vastissimo, morfologicamente è difficile da controllare perché sono tutte secondo case, perché le città si sono sviluppate in senso orizzontale che è più verticale. Quindi tante villette è difficile da vigilare. Quindi così solo se diventiamo tutti un po' poliziotti, carabinieri, finanziari, lo dico ai cittadini, ci guardiamo attorno, non indulgiamo a comportamenti omertosi sempre censurabili, noi aumentiamo il livello appunto della vigilanza e del controllo del territorio e sicuramente rendiamo la vita più difficile a tanti malintenzionati. Questo incontro dimostra la sensibilità e l'attenzione dell'amministrazione comunale di Umbertide in tema di sicurezza, ha continuato il prefetto Repucci. Oggi la percezione di sicurezza è alterata e a causa anche della crisi economica che stiamo vivendo, la più grave dopo quella del 29, anche in Umbria è aumentato il numero di furti. Tanti furti sono furti veramente da miseria, da povertà, gente che ha problema appunto di mettere insieme il pranzo con la cena e magari per disperazione ruba nel supermercato, lo vedo dalle informazioni che mi dà nelle forze di pulizia, la scatola di donna e il pezzo di formaggio. Ecco, furti da miseria. Consideriamo pure queste, riflettiamo su queste. Il coordinamento tra le forze dell'ordine è fondamentale ma serve anche uno sforzo collettivo per recuperare quel senso di comunità e di coesione sociale che nel tempo è andato perduto. Controllate pure l'abitazione del vicino in un contesto di scambio reciproco. Essere cittadini comporta appunto anche dei doveri, come dicevo prima, non solo lamentarsi ma anche attivarsi, darsi da fare, rimboccarsi le maniche.